Buongiorno. 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 È un piacere per me. Io, Nicola Dallagrana, in Vicenza, Centro Ippico del Tesina, e il signor Alessandro, e questo molto meraviglioso, Romeo, ha presentato la nuova linea Protective. Protective è un prodotto molto incredibile per me. Perché, in Vicenza, in Berichi Hills, l'Officinalis cresce la lavanda medica e l'Extrac Dexentialloy, l'Active Substance, per produrre l'Officinalis. È un prodotto molto innovativo perché l'Active Substance in questo prodotto è 100%. Ma è impossibile per voi mettere il prodotto molto piccolo, in molte cose, in l'Active Substance. La nuova idea è l'olio. L'olio è un'olio molto facile, ma è molto incredibile perché hai la possibilità di mettere in l'olio il prodotto concentrato. Questa è la boxe. E nella boxe c'è l'olio e l'olio di essenziale. Tape il prodotto e la monta tra le prodotto poly, ok, le colpere, 10 colpere, 2, 3, 4, 5, 6... 10 colpere sono incredibili per 10 all'interno, 20 sottotitoli sono incredibili per 20 ore e 30 sottotitoli per 30 ore. Prendete la flotta e lo mettete in un sacco. La flotta è molto facile, è molto simpatico, ma il sottotitolo è molto incredibile per la flotta intensiva e rilassare la flotta per 10 ore e 20 ore. Prendete qui, lo mettete in l'acqua, lo mettete in l'acqua, lo mettete in l'acqua, è molto concentrato. Produto naturali per la flotta o il mosquito. Quando vuoi mettere in un cap o in un t-shirt, rilassare la flotta e proteggere la pelle perché il prodotto è molto concentrato. Nel centro della flotta c'è un tessuto di fibra, è un tessuto di fibra speciale per rilassare il parfum. Atenzione, quando puoi mettere il prodotto, non puoi mettere la pelle o la pelle. È più importante perché è 100% concentrato, puoi mettere nel centro della flotta. Questo è il primo prodotto. Il secondo prodotto è il shampoo. Quando il uomo è pulito, non attraversare il bambino e il mosquito. È più importante che cuassi il tuo figlio con un shampoo. Ma quando il shampoo è molto specialista, il prodotto ha un 6% di flotta e la flotta è più importante perché l'attività attiva è contro la flotta. E' un altro prodotto che è molto incredibile perché ha un 90% di flotta, è molto concentrato. Non è acqua e in questo prodotto non è alcool, ma il 90% di flotta in emulsione. È acqua e l'olio. E quando puoi mettere questo prodotto in l'occhio, il graso va dentro il graso, nel cuore e rilassare il parfum per 10 ore. Il spray è molto, scusami mister, è molto specialmente un trigger per creare un buon prodotto di dispensato. Per me, il protetto è per un buon pomeriggio, per il mister Alessandro, ma è il più importante protetto per la flotta. È un buon pomeriggio, ovviamente. Ok, Alessandro? Ciao, ciao!